Buonasera, siamo con Mannello Raffaele. Com'è andata questa partita? Bene, è stata una partita combattuta, siamo passati in vantaggio, poi un altro gol, poi la squadra avversaria si è rifatta solo. Però abbiamo tenuto, non avevamo cambi, quindi una buona prestazione. Ringrazio tutta la squadra e il talismano che viene a tutte le partite, Vincenzo, che è un grande supporter. Partita incredibile, la vostra, finita 4-2. Che cosa è cambiato nel secondo tempo per permettervi il sorpasso qui? Diciamo che la motivazione c'era, avevamo capito che si potevano azzannare gli avversari, morderli e non avevamo nulla da perdere. Siamo partiti piano tutto il campionato, una sconfitta, un pareggio e poi stiamo andando increscendo. E che cosa vi aspettate per le fasi finali del torneo? Io sinceramente mi aspetto di continuare a giocare così, che la squadra giochi così, che abbiamo un cambio che può aiutare e poi la fortuna anche ci deve assistere. Perfetto, ti ringrazio, buona serata. Ciao, grazie.